Su, su, cocchini miei! È questo il modo di trattare un ospite? Confesso, ora sì che mi sono venuti i brividi. Bravo! Nessun mortale aveva mai raggiunto Tartaro prima d'ora. Vivo, intendo. Mettiti comodo. Ti ringrazio. Bel posticino questo. Ti piace? Sto pensando di fare tutto il mondo così. Però, è un'ottima idea. Beh, sei molto occupata, perciò, senti, prendiamo il libro della pace e ci togliamo dai piedi. Cosa ti fa pensare che l'abbia io? Ah, ecco, mi hai incastrato con il furto. Così avrebbero giustiziato me. Te... Già? No. Proteo. Sapevi che avrebbe preso il mio posto? Che scaltro mito che sei. Contavi sulla mia fuga. Poi Proteo sarebbe morto e Siracusa sarebbe... Rimasta senza un legittimo successore al trono precipitando in un glorioso caos. Voi umani siete così prevedibili. Proteo non poteva fare a meno di essere nobile e tu non potevi fare a meno di tradirlo. Ma io non ho tradito Proteo. Non sono scappato. Oh, invece lo hai tradito. Gli hai rubato il suo unico amore. Guardala, Simbad. Lui non è ancora nella tomba e tu ti fai sotto con la sua donna. Grazie a tutti.